a parte stasettimana ho mangiato un po di roba vegana poi vi dico cosa ne penso ma comunque sarà con ci sono abituato sarà che però sentito male insomma non è che comunque lasciamo perdere sono cose mie ma che non si si per l'alimentazione tutto il mondo siamo 6 siamo 6 siamo 6 secondo lei vuole affermare che macella in un modo per cui gli animali vengono macellati non so come perché vengono ammassati in modo tale che quando lei fa la trasmissione sua fai il cazzo che vuole fai il cazzo che vuole fai il cazzo che vuole qui la ma perché va chiamato pollo se è vegana che ricorda allora se una persona ma se mi fa schifo ma perché allora rispondo e no sì allora perché dovreste chiamarli pezzi di cadaveri ma perché devo chiamare svizzera vegetariana quindi lo stordimento avviene per appenderli ai ganci dopo di che quando gli tagliano la gola gli animali si dibattono gli animali gridano questo è la sua versione si ho capito è tutto vero è tutto falso è che dico capisci che è poco credibile capisci che è poco credibile capisci che è poco credibile la macellazione avviene così è la macellazione che avviene così si ho capito ho capito ho capito ho capito ho detto è la versione soffrono da morire gli animali non è una versione oh madonna merciati versione non vuol dire vero o falso vuol dire che lui la pensa in un modo e lei ha detto che avviene in un altro grazie a tutti